L'alternativa che viene adottata con il decreto di oggi ha alternative migliori dal punto di vista del sostegno alle famiglie, alle imprese, ai risparmiatori, alla stabilità del sistema finanziario, a costi inferiori. Io vorrei che le persone che fanno queste critiche mi dicessero qual era l'alternativa migliore, perché io francamente non le vedo. Una volta che abbiamo escluso per esempio la ricapitalizzazione precauzionale che si applica nel caso di Montepaschi ma non si applica nel caso delle Venete perché i due casi sono molto diversi, l'unica alternativa che io vedo è la cosiddetta liquidazione disordinata o per usare un termine un po' brutale ma efficace lo spezzatino che avrebbe completamente distrutto la capacità operativa delle banche. Ricordatevi che con quello che stiamo facendo oggi gli sportelli delle due banche continueranno a operare, continueranno quindi a essere uno strumento, un pezzo dell'economia e della finanza delle regioni in cui operano.